Salve a tutti gli amici di Galassia TV, sono Mattia e il vostro nuovo volto televisivo, pronto a darvi sempre consigli su come vedere i programmi di Galassia TV, Super Six, Auro TV e Junior TV. Le storiche emittenti televisive tornate in streaming gratuito solo per voi. Film, telefilm, cartoni animati, documentari, sport, attualità, cultura e tanto altro. Il nostro è un bel quartetto vincente, non credete? La bella TV di una volta quella che tanti bei ricordi ci fa venire in mente. Ci trovate H24 a questo link, galassiatv.blogspot.com. Un caro saluto e a presto!